allora prima di passare al prossimo premio abbiamo qui un ospite veramente veramente speciale signore e signore al Pegaso Film Festival l'attore e comico toscano Gian Maria Massallo quante tu ne dai di tutti questi appellativi buonasera 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 a tutti è partito in ritardo l'applauso già sembra dalla casa di carta si rifà tutto rimanda indietro tutto per cortesia rimanda indietro perché questa è la prima edizione giusto di questo film allora deve essere per come si deve qui dietro mi hanno messo angoscia in questo silenzio sembrava o che mi volessero tirare la labbrata o che facessero un applauso che non era sicuro si riparte vai direttamente dal terzo piano di condominio Gian Maria Massallo signore e signore Gian Maria Massallo oh grazie per questo applauso spontaneo fatto a mano buonasera buonasera cara grazie grazie chiedo scusa tanto a chi darò le spalle però questi i nostri potenti mezzi tecnici come dicevi i pasci ci consentano questo ecco noi ci mettiamo a distanza per questione di covid e mascherine grazie ciao cara complimenti per l'eleganza ciao grazie mille chi te l'ha presentata queste scarpe una mistress chi te l'ha data queste scarpe e ci sono un po' di accessori sopra bene 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 tanto complimenti ai premiati eh complimenti ai premiati e complimenti alla giuria ha fatto un lavoro meraviglioso anche nella valutazione sono veramente contento di essere qui stasera facciamo un po' di salottino sei pronto? accidenti tra te e la venire se sa non cambia nulla vai vai allora dimmela non abbiamo potuto mandare l'estratto ragazzi però c'è praticamente c'è stato uno spettacolo che è Dante e di intorni perfetto questo tu l'ha pronunciato bene che strozzo questo tu veramente una merda in questi giorni si è parlato molto visto del sommo poeta per i 700 anni della sua morte come nasce questa tua passione per Dante? come nasce la mia passione per Dante? la mia passione per Dante è nata da un profondo senso di conoscenza di quello che la Toscana e Firenze avevano da offrire perché tu sai se un pochino tu hai visto un po' le cose che ho fatto si cimentano sempre molto su una ricerca d'archivio di questa Toscana che non esiste più di questa Firenze un pochino nostalgica si cerca un po' alle nuove generazioni come può essere la mia ma anche quelle più giovani di me di cercare di tramandare questi messaggi e lo si cerca di fare in tutto su Dante ovviamente c'era da porre un minimo l'accento è stato una delle prime cose perché tra l'altro è stato uno spettacolo che mi sovvenne nel 2013 e dal quale l'anno dopo ne conseguiva una pubblicazione editoriale che era lo stesso libro ma il Consiglio regionale della Toscana poi decise di promuoverlo come pubblicazione editoriale quest'anno era il caso di ritirarlo fuori e quindi servendovi di magistrali riprese di Matteo Vanni e di una mitica regia della Consuelo si è fatto un bel lavoro perché da solo naturalmente potevo farmi video selfie ecco non di più però insomma su Dante c'è stato un bel progetto che se appunto i dpcm ci porteranno consiglio quest'estate si spera di poter fare qualche cosa speriamo questo speriamo davvero si si non le date le si fissano poi di chi è che le si facciano va bene 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 nel maggio del 2016 hai pubblicato il tuo primo album ah ok si dal titolo Toscano per caso si che poi è diventato anche uno spettacolo teatrale che unisce la musica e l'ironia per raccontare la toscanità come la studiavo cosa significa per te essere un Toscano per caso allora partiamo da questo Toscano per caso è forse un po' una forma ironica per dire è più Toscano di che c'era dentro i cd non c'era nulla insomma c'era un moccolo e poi più Toscano di quello però è proprio per quello c'è l'ironia la presa in giro di un di un Toscano che per prendere in giro l'altro deve prendersi per primo in giro se stesso quindi è logico che anche il titolo deve avere una forma ironica per parlare appunto proprio di tutta Toscana forse non è un caso che il mio cognome diversamente Toscano faccia vassallo no è importante è una delle prime cose che devo giustificare non appena parto uno spettacolo io sono fiorentino da parte della mamma siciliano da parte di un amico di mio babbo e quindi di un amico Vanni perché stai ridendo? non si ride sulle tragedie delle famiglie ti si vede anche dalla mascherina vabbè questo è un po' però è stato un bel lavoro perché anche lì si ripercorre un po' questa comicità toscana di questi cabareti degli anni venti queste folli bergerde di Firenze che facevano venire fuori questi primi questi primi nudimenti della nostra comicità si parla di Giulio Ginanni è un po' un cabarettista antelitteram per seguire a Spadaro anche qui si è fatto tanti lavori su Spadaro e poi insomma quella che è invece la nostra battuta la nostra canzoncina sagace, irrivedente sì me lo porto nel cuore e spero di portarla anche a giro a Covid definito sempre a Covid finito finisco sempre così finisco sempre così giustamente hai ragione sei stato definito l'erede naturale della tradizione dello stornello popolare resa famosa da Odoardo Spadaro allora no no capiamoci patti bravo amicizia lunga allora quando te guardi in telecamera e tu dici Odoardo Spadaro come dire un neri mi vicino gli è morto l'anno scorso no allora Spadaro allora riparti te sei definito insomma portata da Odoardo Spadaro Odoardo Spadaro ora sì ora sì che te ben conosce quindi si sa si sa ecco dimmi che cosa ti ha spinto a esplorare questo mondo che oggi ci sembra così distante? allora dovevo far conoscere a coloro che citano Odoardo Spadaro e credano sia il vicino che è morto l'anno scorso chi fosse Odoardo Spadaro scherzi a parte allora sono un po' quelle cose inspiegabili a cui non ti dai molte risposte o molte spiegazioni perché è come sentivo citare qualche d'uno dalla giuria non si può spiegare una passione che nasce da questi mestieri chiunque poi cavalchi in un settore piuttosto che un altro del mondo fantasmagorico dello spettacolo però c'è questa questa passione in me che è inspiegabile perché nasce da un profondo senso d'orgoglio di appartenere alla Toscana però c'è questa Toscana che noi non conosciamo ed è una Toscana che in realtà deve essere scoperta perché andando a scovare alcune cose della nostra tradizione del nostro ma proprio del nostro spettacolo così come della nostra storia si scoprono cose meravigliose di cui se ne siamo all'oscuro e che possano trovare il loro spazio anche nei nostri giorni quindi è un po' questo sono una piccola goccia nel mare ma che lotta per tenere vivo quello spadaro sì che alcuni non conoscano ecco sì sì ti vado avanti vai avanti pure vai vai tranquilla quando capite volevi fare questo tranquilla dici tanto ora non mi guardare ho gli occhi dell'amore ho la mia compagna è collegata su forse quando hai capito non la vedete ma insomma perché avevo la faccia a cubo lo sapevo da me ma non mi portava sottolineando dimmi dimmi quando hai capito volevi fare questo lavoro da quando sono nato prima ancora no è vero è vero dall'elementare insieme ma guarda ti dico ti dico ero io e facevo l'is ero io e facevo l'is ero io no no è vero è vero perché ritorno a quello ho detto prima cioè questi questi lavori o ce li hai innati oppure non ti ci trovi ci si può anche trovare per caso però ci deve essere anche una predisposizione non si va come alle poste o come come a fare qualsiasi altro lavoro normale tra virgolette dai questo ci deve essere una vocazione io ero piccolino e al mare dove andavo io c'erano gli animatori che la sera intrattenevano gli ospiti dell'albergo dove andavamo al mare e questo piccolo palchettino era un era un marciapiede era uno stacchettino ma che mi sembrava un mondo parallelo no? tra lo stare sotto quello scalino e salire su quello scalino cioè cambiava una dimensione che tutti insomma chi fa questo chi fa questo mestiere può testimoniare e io ricordo che avevo ancora il ciuccio e ancora i miei genitori me lo raccontano che io rimanevo incantato così a guardare questi personaggi che venivano fuori con un travestimento poi venivano fuori con un altro travestimento i miei amici con i pannoloni erano a fare le formine i miei genitori io invece mi facevo portare lì pare che fosse l'unico momento in cui stavo zitto piccolino 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 poi sono andata all'elementari e la maestra mi voleva far fare Ulisse e io gli dissi guarda faglielo fare chi è meglio di me perché io con Ulisse me la dico io sto meglio tra i proci tra i proci parliamo di riconoscimenti hai ricevuto tanti hai ricevuto tanti riconoscimenti qual è il più significativo per te? il riconoscimento più grande posso fare una frase fatta ma che sento particolarmente perché non vorrei fare veramente e le viene a fare le solite pappardelle non è il mio stile penso che si sia visto il riconoscimento più bello è quando ho tanta gente davanti che mi segue agli spettacoli quello può essere il riconoscimento più bello poi ti potrei parlare di premi di Firenze il fiorino d'oro ti potrei parlare veramente di tanti riconoscimenti istituzionali che naturalmente nobilitano tutto quello che fai perché magari danno a vieni riconosciuto anche per un senso che anche altri danno al tuo operato però la cosa più importante è sempre la riprova che ci sia affetto da parte del pubblico verso quello che si fa e questo credo che sia la cosa principale che ognuno di noi non deve mai così insomma non deve mai scordare sono d'accordo con te su questo punto stessa cosa anche per me anche Spadaro aveva questa anche lui anche Spadaro aveva dava importanza al pubblico parliamo del lockdown sentiamo un attimino mamma mia e ora chi si figlia un'anda proprio si figlia un via allora la domanda è ci sono tante persone che si sono date a vicina parliamo di scusa un attimo parliamo del lockdown guarda un po' in che stato che sono guarda si riesce a prendere un profilo lo prendi Consuelo lo prendi il profilo questo è il lockdown io voglio ringraziare prima Conte e poi ora Draghi non tanto per l'economia quanto l'economia sui mangiare l'è andata a finire tutta lì se mi metto una maglietta e c'è una scritta la legge è in 3D è una cosa pazzesca è bruttissima anche solo per quello un po' se altro per quello la domanda si è conclusa deve finire hai mangiato come l'hai passato ho mangiato ho scoperto dei piaceri di mettermi queste piantine sui terrazzo cominciare a cosare e poi finire la sera naturalmente ho i gaviscon perché forse mangiare poi cominci a bruciare lo stomaco però è proprio sai cos'è che che un po' più di altro ti può dar noia al di là naturalmente di tutti i problemi economici di tutto è il non sentirti libero di esprimerti no specialmente per chi fa il nostro il nostro mestiere c'è sempre una libertà che noi bramiamo sempre ovunque no e laddove il nostro mestiere prevalentemente si svolge la sera al calare del sole quando ti ritrovi in una situazione inspiegabile dove al calare del sole sei chiuso in casa e non ti puoi muovere ti cambia la vita e quindi o sei pronto a questa cosa o la prendi in un modo diverso e quindi ti butti a mangiare per la depressione ecco e credo si sia testimonata la risposta e così abbiamo riassunto poi assolutamente scherzi a parte guarda ora se scherzate il riso su Spadaro però sto facendo progetti importanti sulla figura di questa artista perché oltre a essere quello che tutti conosciamo che compresa l'autore del Bacione a Firenze è stata comunque una vedetta internazionale che ha portato la fiorentinità nel mondo io naturalmente non cerco di avvicinarmi alla sua figura ma quantomeno di addentrarmi da spettatore e cercando di riportare anche alla ribalta quelle cose che sono un po' dimenticate del nostro del nostro spettacolo però tra videoclip prossimi che poi ne vedrete dei belli anche su qualche videoclip c'è una canzone su Spadaro abbiamo provato a rincidere e la faremo io e Wikipedro la faremo è prossima stosia che tu riri si fa davvero ti pidio mia per il culo si fa si fa sono espressioni scusa no io tu me lo dovevi dire io vado alla d'urso dai non ci voglio più e mi sono buttato per risponderti brevemente a una a una stesura di un libro su Spadaro sarà l'opera più completa della vita e delle opere di Spadaro a cui seguiranno naturalmente le pubblicazioni in concomitanza allo spettacolo che già presentai nel 2019 alla compagnia e che si spera ora covid permettendo di riportare in scena si torna sempre lì ultima domanda ah ce n'è un'altra se potessi dire qualcosa a te stesso di dieci anni fa che cosa gli diresti? allora me l'ha fatta anche lo psicologo questa domanda e non mi sono dato risposta infatti ho cambiato psicologo qui non si può cambiare intervistatrice quindi bisogna mi dare una risposta per forza se dovessi dire qualcosa a me di dieci anni fa direi di persistere di non fermarsi alle prime critiche di non fermarsi a chi non ci crede e di continuare a sognare questa forse è una frase fatta quanto quanto particolarmente sentita perché era difficile partire specialmente giovane 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 a parlare di Toscana a parlare di quando c'erano maestri importanti insomma c'era Giorgio Ariani Riccardo Marasco c'erano veramente nomi importanti del nostro mestiere che ancora erano alla ribalta come fai arrivi te ragazzino e cominci a parlare di queste cose provi a fare il cabarettista provi a cantare le canzoni di una Toscana ad un tempo però in questo bisogna non demordere ecco è il messaggio che ha mandato anche Consuelo a inizio del festival a chi non si doveva abbattere perché non poteva essere selezionato a questa edizione basta non abbattersi basta seguire i sogni e colorare la propria vita secondo i colori che ci vogliano e continuare continuare ad andare avanti covid permettendo covid permettendo Gian Maria ti ringrazio io ringrazio te ringrazio la giuria e chi ha organizzato grazie per questo spazio che mi sono immeritatamente preso ciao